sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio di nostro signore gesù cristo a padre lucas padre cattolico sacerdote e cattolico della della polonia e che riceve messaggi dalla madonna e da nostro signore gesù cristo richiamiamo noi lo spirito santo per leggere e meditare spiegare questo messaggio ricevuto da padre luca caro figlio mio una persona ferita ha bisogno di guarigione spirituale fisica tante anime hanno bisogno di incontrarmi nell'eucaristia che è l'inizio di ogni guarigione vedo quanti credenti desiderano partecipare alla santa messa dove il mio corpo è trattato con rispetto e riverenza le anime dei fedeli desiderano sacerdoti zelanti e oranti pertanto i luoghi in cui il mio corpo viene consegnato nelle mani di laici e laici non reggeranno questi luoghi saranno privati dalle mie grazie perché lì sono ferito e maltrattato ciascuno dei miei figli consegnando il mio corpo nelle mani di questi uomini donne e donne trafigge il mio cuore con la mia lancia con una lancia pertanto chiedo ai miei fedeli di scegliere i templi dove non ci sono amministratori della santa eucaristia per favore fate affidamento sul vostro coraggio e sulla vostra dedizione per mostrare ai miei figli che si sono spariti che devono intraprendere la via della conversione e lasciare il percorso che sotto le spoglie della bontà conduce alle profondità dell'inferno chiedo a tutti voi di rispettare il mio corpo è stato frustato e strappato così tante volte figlio mio benedico tutti coloro per i quali preghi e con la grazia della guarigione vengo coloro i quali imponi le tue mani gesù prima di passare alla riflessione e spiegazione del messaggio che abbiamo appena letto vi ricordo che in descrizione del video troverete il mio sito web waltersulla.it e la possibilità di scaricare gratuitamente i libri che ho scritto per la gloria di gesù e per la vostra salvezza quindi troverete i libri sul grande avvertimento sull'inferno che esiste la mia testimonianza e ovviamente questo libro molto importante che ho concluso in questi giorni il manuale della sopravvivenza a fine dei tempi noi ovviamente clicchiamo acquista cartaceo su amazon io vi mostro che è anche presente su amazon non perché io ci debba guadagnare qualcosa ma affinché ognuno di voi possa avere anche la versione cartacea nel momento in cui arriverà la grande tripolazione e non avremo più energia elettrica per un periodo e quindi sarà necessario che tutti noi abbiamo a disposizione dei libri cartacei con come questo dove ho raccolto attraverso le varie rivelazioni di luz di maria e tanti altri mistici le piante medicinali per combattere le nuove malattie le scorte di cibo come fare le scorte di cibo e come trasformare la propria abitazione in un rifugio di preghiera un cenacolo di preghiera protetto dagli angeli e benedetto dalla santissima trinità sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria per spiegare questo messaggio faccio un esempio tutte quelle volte che vado a messa nella mia parrocchia che qui sotto casa quando ci sono per esempio 20 30 persone il sacerdote si prende forse di sfiducia eppure è un sacerdote abbastanza giovane sulla cinquantina di anni 55 e io penso sempre prima di accostarmi la comunione chiedo sempre al signore il signore fa che questi ministranti della santa eucaristia non la tocchino con le mani e che il sacerdote per queste poche anime si prenda il coraggio di dare lui la santa eucaristia il quale lui soltanto può toccarla perché questa questa funzione che oggi si chiama ministrante del corpo di dio è una bestemmia contro lo spirito santo solo il sacerdote può toccare l'eucaristia sia per andare dai malati sia per andare dai sofferenti in punto di morte sia per andare nelle case negli ospedali solo il sacerdote può toccare l'eucaristia certo noi con il battesimo abbiamo questi tre doni queste tre virtù che sono essere profeti sacerdoti e re ma in quanto sacerdoti non siamo chiamati a toccare il corpo di gesù siamo chiamati a immolarci sulla croce con gesù per riparare le offese contro la santissima trinità ma non siamo chiamati a toccare il corpo di dio allora nella mia parrocchia per un po' di anni ecco che questo corpo di dio viene toccato da questi ministranti che aiutano o si sostituiscono il sacerdote per dare l'eucaristia e questa è una mancanza di rispetto e questo è questo qua questo questo tipo di azione questo tipo di ruolo cioè il ministrante dell'eucaristia che non è il sacerdote sia il ministrante e sia il fatto che lo stesso ministrante tocchino la santa eucaristia per darla al fedele sostituendosi al sacerdote ecco che lo scisma nella chiesa è pronto Gesù in questo modo viene calpestato frustrato e messo in croce più volte quando non è il sacerdote a toccare il corpo di dio e quando non toccandolo il sacerdote ovviamente Gesù non smette di essere presente in quella santa eucaristia però quella santa eucaristia diventa un martirio non diventa una guarigione per l'anima perché le mani le uniche mani che devono toccare quel corpo e quel sangue sono quelle del sacerdote allora Gesù ci invita nel vedere questo a fare due azioni la prima azione ci potrebbe costare un rifiuto da parte del sacerdote e da parte della parrocchia quindi dobbiamo essere coraggiosi andare dal sacerdote magari fargli conoscere questo video o questi messaggi di padre Luca e dirgli padre non non devi più permettere non non dobbiamo dirgli non puoi non devi più permettere assolutamente ai ministri nella santa eucaristia di toccare il tuo corpo il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo nella santa eucaristia prendi fiducia prendi coraggio se sono poche anime la dai tu la santa eucaristia se ci sono delle messe di ricorrenza per delle anime o dei matrimoni o delle celebrazioni di altri sacramenti allora chiami in aiuto altri sacerdoti per amministrare il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo alle anime ma non sia mai che più un laico debba toccare il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo perché in questo modo facciamo felice il demonio cioè che per amministrare la santa eucaristia non c'è neanche più bisogno di diventare sacerdoti tanto se il laico che amministra il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo per darlo ai fedeli può può farlo a questo punto può può fare la santa messa può confessare soltanto con un titolo senza il bisogno del seminario senza la conversione del cuore ecco che siamo chiamati ad andare ad ammonire i nostri sacerdoti perché le parrocchie che continuano in questa continua bestemmia contro lo Spirito Santo non saranno protette durante la guerra mondiale durante le catastrofi naturali durante la giustizia divina siamo chiamati ad andare dai nostri sacerdoti per dirgli di rimettere gli inginocchiatoi in chiesa per coloro che vorranno inginocchiarsi e prendere la santa eucalistia nella bocca e e di amministrare solo loro la santa eucalistia se si rifiuteranno allora dovremmo dire loro che cambieranno parrocchia per andare in cerca di una parrocchia dove anche se non ci fosse l'inginocchiatoio comunque ci fosse la possibilità di di ricevere la santa eucalistia soltanto dal sacerdote io piango e mi rattrisco perché nella mia parrocchia comunque il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo viene amministrato da ministranti e donne e neanche uomini questo non è una discriminazione verso le donne però sappiamo che già in Inghilterra ci sono donne sacerdoti vescovi sacerdoti chiese amministrate dal sesso femminile il nostro Signore Gesù Cristo è stato chiaro nella rivelazione il sacerdote è uomo la donna ha un altro ruolo cioè la suora che abbiamo centinaia di migliaia di suore che hanno ricevuto le stimmate doni mistici messaggi rivelazioni come santa la santa della Polonia santa Faustina Kowalska e quindi nella nella chiesa ci sono questi due ruoli che sono le suore e i sacerdoti ma neanche le stesse suore si devono prendere questo compito di andare a toccare il nostro Signore Gesù Cristo con le proprie mani per darlo alle anime ecco che questo è un messaggio forte però necessario perché Gesù viene maltrattato e noi dobbiamo essere forti nell'andare a munire le nostre parrocchie ma questo è un ammonimento d'amore perché vogliamo che queste parrocchie quelle che dove viviamo noi possano in questo modo ricevere la grazia dello Spirito Santo per continuare ad amministrare nostro Signore Gesù Cristo nonostante la religione unica l'anticristo si impossesseranno della chiesa e abboniranno l'eucolistia in tutto il mondo ma le nostre chiese saranno riservate da l'acquistazione satanica che è alle porte le nostre chiese saranno dei luoghi dove ci si potrà inginocchiare davanti l'eucolistia dove ci saranno delle adorazioni eucolistiche sante e dove ci saranno delle grazie di conversione di corigione perché saranno così trasformate direttamente da Dio in santuari dove scorcherà veramente la fede sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria e Grazie a tutti.